Buonasera, bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi Versilia. In apertura c'è la pagina di crona che è purtroppo un grave infortunio sul lavoro avvenuto in mattinata a Seravezza in una cava di marmo grave. Un operaio di 36 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato incastrato sotto una lastra di marmo mentre lavorava nella cava Trambiserra in località Malbacco, sopra Seravezza. Una tragedia sfiorata avvenuta intorno alle 8 di mattina. Le dinamiche sono ancora da chiarire con esattezza ma secondo quanto riferito dal responsabile della sicurezza, mentre il capo cava, il sorvegliante e i due operai si recavano sulla parte alta degli scavi per completare un lavoro di taglio. In contatto con altri operatori dal basso si sono resi conto che la bancata aveva dei cedimenti. Subito sono scattate le procedure di evacuazione ma il temuto cedimento c'è stato prima del previsto e il giovane operaio, 36 anni, residente all'Uni Mare, pur non essendo più nel fronte di caduta, è stato colpito alla gamba dai detriti schizzati fuori. È rimasto cosciente per tutte le operazioni di soccorso, molto difficoltose vista la zona, ed è stato liberato dopo circa un'ora. Trasportato all'ospedale Cisanello di Pisa in codice rosso, con l'elisoccorso Pegaso, atterrato al Palazzo Mediceo, sembra ancora in gravi condizioni e la prognosi resta riservata. Sul posto il 118, i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia municipale e quasi tutta l'amministrazione comunale. Il sindaco Riccardo Tarabella rilancia il tema della sicurezza sul lavoro e le azioni messe in campo di recente dal Comune e dalla Regione Toscana, sia sul fronte dei controlli che della formazione degli addetti e degli imprenditori. Solo così, ha sottolineato il sindaco, si può centrare l'obiettivo della sicurezza sulle cave. Ringraziamo per le immagini Luca Avenante. Adesso invece vi presentiamo il nuovo commissario di Viareggio, in questura la presentazione del nuovo funzionario e che dovrà gestire dunque il tema della sicurezza sulla Versilia, novità anche per il commissariato di Forte Remarmi. Sentiamo. Il questore di Luca ha presentato il nuovo dirigente del commissariato di Viareggio. Si tratta del primo dirigente Marco Mariconda, originario di Salerno e in polizia dal 1988. Una carriera importante è quella del nuovo dirigente, che tra le numerose operazioni portate a termine conta l'arresto dei responsabili dell'uccisione del giudice Livantino, le indagini che portarono alla cattura dei componenti della Uno Bianca e la gestione del sequestro Soffiantini. Mariconda conosce già la realtà versiliese, in quanto in passato ha diretto il commissariato di Portoferraio. Il nostro sforzo sarà proteso a tutelare questa sicurezza, ma naturalmente la priorità delle attività che faremo è quella di assicurarla ai Viareggio, a coloro che non vengono per mero diletto solo in Versilia e quindi hanno assoluto diritto di precedenza nel vedere salvaguardati la propria sicurezza, percepirla non solo formalmente ma nella sostanza e capire che il nostro intervento sarà mirato a controllare ogni e soprattutto ad ascoltare, il mio è anche un appello, le persone. Io sono disponibile sempre ad ascoltare tutti, quindi chiunque voglia fare segnalazioni e parlare con me io sarò sempre assolutamente a disposizione della comunità della Versilia. Contestualmente alla presentazione del nuovo dirigente, il questore ha presentato anche tre nuovi dirigenti in forza alla questura lucchese. Si tratta del commissario Alessandro Landucci, in forza al commissariato di Forte dei Marmi, e vice commissari Vitantonio Losacco del commissariato di Viareggio e Massimiliano Merola, da molti anni operativo nella Digos Lucchese. Parliamo di sicurezza sulle strade a Camaiore installati oggi dalla Comune. 14 nuovi true box, ovvero postazioni fisse, in cui potrà essere inserito periodicamente il telelaser, strumento per rilevare la velocità dei veicoli, la validità della copertura assicurativa e delle revisioni. Va ricordato però che eventuali violazioni delle norme al codice della strada saranno soggette a contravvenzione solo in presenza di agenti della Polizia Municipale. Saranno comunque attivate nei prossimi giorni. Sarà attivate in particolare sulla provinciale francigena, sulla Sarzanese, via Trieste, via Antenna, via Italica, via Guscheri, via Macchia, Monteggiorini. A Viareggio è protesta da parte dei comitati ambientalisti per il nuovo piano delle antenne telefoniche. Si parla di 34 introduzioni, ma sentiamo i particolari. Il nuovo piano della telefonia mobile per la città di Viareggio non tutela la popolazione esposta a rischi di malattie ed effetti negativi per la salute, anche gravi e invalidanti. Lo afferma Daniele Cinquini, presidente del comitato Via Matteotti, durante l'iniziativa di protesta di stamani davanti al Palazzo Comunale. Il piano, che dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale, prevede per l'anno in corso l'installazione di 34 nuove antenne e in città nessuno sembra intenzionato a fermare le continue richieste dei gestori in un territorio già largamente coperto ai fini della comunicazione. Stamani la protesta davanti al Palazzo Comunale e dei comitati Marco Polo, Via Matteotti, Pedone Ambiente e Salute, insieme a Rete Ambientale Versilia e la Commissione Varignano. approveranno un piano che non è sufficientemente cautelativo per la popolazione, dove per ora metteranno 34 antenne, ma è previsto negli anni a venire implementazioni a non finire. Niente, non ci stanno a sentire, per cui l'ultimo, prima che si arrivi all'approvazione definitiva, che dovrebbe essere il 6 alle 14.30, siamo qui a esprimere tutto il nostro dissenso e la nostra contrarietà a questo piano. Questa protesta ha come significato essenziale una contrarietà assoluta verso l'amministrazione comunale in quanto darà atto al Consiglio Comunale di una volontà non certamente cautelativa nei confronti della salute dei cittadini approvando probabilmente un nuovo piano della telefonia. Assolutamente non ci siamo. Naturalmente noi metteremo in atto poi anche forme di protesta anche differenziate e non escludiamo che possiamo anche arrivare a fare degli esposti anche molto in altro. Lasciamo Viereggio, andiamo a Pietrasanta, insignita in queste ore dal Presidente della Repubblica della prestigiosa onoreficenza della medaglia d'argento al merito civile, quanto è stato pubblicato dal Comune, soprattutto dalla Quirinale in queste ore, il decreto del 14 marzo scorso ed è stato reso noto proprio in queste ore. Medaglia d'argento al merito civile per Pietrasanta in relazione al contributo dato dalla popolazione alla lotta di liberazione negli anni 43-45 e nelle motivazioni si legge nonostante le violenze patite la comunità locale seppe reagire agli orrori della guerra e con generoso altruismo diede ospitalità aiuto ai numerosi sfollati e offrì un contributo significativo alla lotta di liberazione. Gratitudine è stata espressa dal commissario straordinario Giuseppe Priolo nei confronti della Presidenza della Repubblica. Nei prossimi giorni saranno rese notte le modalità e la tempistica di consegna della medaglia. E intanto Pietrasanta è una città che va alle elezioni, come sapete, unico comune peraltro in Versilia, si vota domenica e già oggi Daniele Mazzoni, candidato della lista civica Siamo in Pietrasanta, ha presentato la sua eventuale squadra di giunta. Vediamo. Gioca d'anticipo Daniele Mazzoni. Il candidato sindaco di Siamo, Pietrasanta, ha già ufficializzato la sua giunta in caso di vittoria alle elezioni del 10 giugno. Due donne e tre uomini, tutti già candidati in lista, tranne una. I mancabili due dell'ex amministrazione Mallegni. Daniele Taccola, che in caso di vittoria sarà assessore a turismo e cultura. Laura Santini, che riprenderebbe le deleghe al sociale e alle tradizioni popolari. Alla sicurezza e polizia municipale, Carmelo Melita, ex maresciallo dei carabinieri di Marina. All'istruzione, Elisa Solidoro, insegnante delle stagio stagi. E infine, come vice sindaco, il giovane promettente Michael del Soldato, 30 anni, con deleghe al bilancio sport e politiche giovanili. Questa sarà la squadra. Nessuna variazione, ha assicurato Mazzoni, anche perché non ci sarà mai un apparentamento né un accordo con altri candidati. Ho presentato la squadra di giunta. Persone per bene e preparate. Votando Daniele Mazzoni saprete già anche chi è la squadra di giunta che governerà la città in caso di vittoria. Votando i partiti e i loro simboli, invece, voterete una scatola chiusa. Non saprete chi saranno gli amministratori della città. Ho scelto un giovane vice sindaco, 30 anni, preparato, affermato sul lavoro e questo vuole essere un segnale chiaro verso i giovani della nostra città. E a proposito di elezioni, martedì sera sulla nostra emittente su Noi TV Canale 10 in diretta il confronto pubblico con tutti i candidati a sindaco. Vediamo. Manca poco alla chiusura della campagna elettorale per le amministrative di domenica 10 giugno e Noi TV offre ai propri telespettatori e soprattutto ai cittadini pietrasantini un'occasione speciale per conoscere e mettere a confronto tutti i candidati a sindaco di Pietrasanta. Martedì 5 giugno, a partire dalle 21, va in onda in diretta dalla sala dell'Annunziata in Sant'Agostino il confronto elettorale con i cinque candidati alla carica di primo cittadino. Rigorosamente un ordine di sorteggio eseguito in prefettura e di apparizione sulla scheda elettorale Alberto Giovannetti per il centrodestra, lista Mallegni-Pietrasanta prima di tutto, Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, Pietrasanta Viva, Marco Dati, sinistra per Pietrasanta, Nicola Briganti, Movimento 5 Stelle, Ettore Neri, Partito Democratico, lista insieme per Pietrasanta, Daniele Mazzoni, siamo Pietrasanta. Dieci domande uguali per tutte con identici tempi di risposta che copriranno i maggiori temi di interesse per i cittadini che potranno confrontare idee e programmi in vista del voto di domenica 10 giugno. Per ragioni di spazio l'accesso alla sala dell'Annunziata sarà limitato e regolamentato per i sostenitori dei candidati. Per tutti il modo migliore per ascoltare e capire sarà seguire la diretta su Noi TV, canale 10, a partire dalle 21. Andiamo a Seravezza, torniamo sulle montagne di Seravezza, poco distante da dove peraltro è avvenuto quell'incidente che abbiamo riferito in apertura, dove ci sono delle vere e proprie discariche, rifiuti abbandonati, segno di inciviltà in una delle zone più pregiate, quella di Malbacco. Vediamo. Il senso civico e il rispetto per l'ambiente e per le persone hanno toccato i minimi storici. A niente sono serviti gli appelli lanciati dall'amministrazione di Seravezza e dagli ambientalisti per tutelare e salvaguardare le piscine naturali del torrente Serra a Malbacco. La realtà questa volta ha lasciato il segno. Vicinissima alle straordinarie piscine naturali hanno abbandonato di tutto. Uno sfregio alle regole e un oltraggio all'ambiente, un'ose di relax a due passi da Seravezza, un gioiello naturalistico che ha scatenato l'ira dei tanti gitanti che in questi giorni ed estate anticipata hanno scelto di bagnarsi o rilassarsi in mezzo alla natura che dovrebbe essere incontaminata. Ora è veramente troppo. Gli appelli al senso civico, la prevenzione e la tolleranza non sono serviti a niente. Ora serve il pugno di ferro e sanzioni esemplari. Ecco come si presentava questo fine settimana il paradiso del Malbacco, dove i margini del torrente Serra sono stati scambiati per una discarica. Calcinacci, mobili, amianto, centinaia di sacchetti di plastica pieni di rifiuti abbandonati da chi frequenta un'area naturalistica tra le più belle della nostra Versilia. A scattare le foto è stato un escursionista di Piano di Conca, Jonathan Bonuccelli, di casa in queste zone. Ora sarà necessario che il Comune intervenga, anche con provvedimenti repressivi, per evitare il peggio. Torniamo a Viareggio. Nel fine settimana, domenica, si è svolta la consueta pedalata della memoria da Livorno a Viareggio per ricordare e non dimenticare soprattutto la strage ferroviaria del 29 giugno 2009 e anche la tragedia del Mobi Prince. Oltre 50 atleti hanno risposto sì, partendo dal porto di Livorno. Tre province attraversate, sei comuni. Sul Aurelia, pensate, si sono aggregati anche altri ciclo amatori. Davvero una bella staffetta. È stato premiato Sandro Lulli, attivista conosciuto per le sue frequenti imprese di attraversamento del mare a Remi. È stato premiato da Marco Piagentini, presidente del Mondo che Vorrei, e Loris Dispoli. Per il prossimo anno ha lanciato la sfida di andare a Remi da Livorno fino a Viareggio, quando sarà il decennale dell'incidente ferroviario. L'appuntamento adesso è al 24 di giugno e ritrovo sempre la casina dei ricordi in Via Ponchielli per il memore al Viareggio Cardoso, la ciclo pedalata che lega l'incidente ferroviario di Viareggio alla terribile alluvione del 96 in Alta Versilia. Torna al Festival Gaber, edizione 2018, la quindicesima, ancora a Camaiore, tante novità e ancora più grandi nomi. Sentiamo. È un'edizione speciale, quella che festeggia i 15 anni del Festival Gaber, la sesta organizzata per le strade di Camaiore per tutto il mese di luglio, con un cartellone di eventi gratuiti mai così ricco, a 15 anni dalla scomparsa del Signor G. Tra le novità, le nuove location del Teatro dell'Olivo, che ospiterà il concerto di apertura di Ivano Fossati il 1 luglio, e l'opera di Teatro Canzone Lo Stallo di Sandro Luporini il 5 luglio, e il Cinema Borsalino con Beppe Fiorello il 2 luglio. Tre eventi gratuiti ma su prenotazione obbligatoria. Ci penserà poi le strade di notte, il 6, a dare il via alle danze all'aperto, e poi tutti i grandi eventi in piazza San Bernardino. Tra gli ospiti più attesi, Lorenzo Fragola, Giacomo Poretti, del trio Aldo Giovanni e Giacomo, lo Stato Sociale, Diodato, Morgan, le vibrazioni, e per chiudere Giorgio Panariello il 31 luglio. Abbiamo iniziato con una manifestazione più larga, una manifestazione che coinvolgeva i primi nomi della comicità italiana, sono passati di qui veramente tutti, Frassica, Insinna, Biacchetti, e ci hanno permesso di coinvolgere persone che a questo punto credo che siano cresciute con noi e che seguano con piacere i nostri appuntamenti. Quest'anno forse è il cartellone più completo da questo punto di vista e ne andiamo particolarmente fieri. Firmato un nuovo accordo triennale tra la Fondazione Gaber e il Sindaco del Dotto, che lega ancora il Festival a Camaiore. Il punto fondamentale rimane l'organizzazione degli spettacoli senza il pagamento dei biglietti di ingresso, perché è quella poi tra l'altro la motivazione che spinge il Comune a sostenere con un contributo importante l'organizzazione. Noi scegliamo anche quella firma del protocollo triennale di legarci alla promozione non solo dell'opera artistica, alla divulgazione dell'opera artistica di Giorgio Gaber, ma anche del suo messaggio, che oggi più che mai non solo ha un valore universale, ma ha un valore decisamente attuale, riferito tra l'altro ai temi della solidarietà, ai temi dei più deboli, dei più bisognosi, ma anche ai temi della coscienza. Ci fermiamo qua con la pagina di Cronaca, tra poco di nuovo insieme con le notizie sportive. Eccoci di nuovo insieme, la pagina sportiva l'apriamo con il calcio, il bel risultato della Camaiore che ha battuto per 2-0 il Prato Vecchio con una doppietta di Federico Tosi e ha conquistato il ritorno in eccellenza alla promozione. Adesso, domenica 10, giocherà contro lo Sporting Cecine, campo neutro, per decidere chi promuoverà tramite il ripescaggio. E c'è un grande risultato invece nell'hockey su pista, l'SPV Viareggio, campione d'Italia Under 20. Sentiamo i particolari. Corro e l'epore. Dopo la conquista della Coppa Italia con la formazione Under 17 del Centro Giovani Calciatori, un titolo italiano per l'SPV Under 20, due terzi posti CCC Under 13, Under 15 e due quarti per l'SPV nella categoria Under 15 e 17. Sono il bottino di tutto rispetto delle formazioni viareggine nelle finali dei campionati italiani giovanili di hockey su pista che si sono disputate a Follonica a una settimana dopo dall'assegnazione della Coppa Italia. La SPV Under 20 di Alessandro Martini ha conquistato uno scudetto che avrà riflessi positivi anche nella prima squadra. I vereggini hanno vinto infatti il proprio girone eliminatorio grazie al 9-4 al Giovinazzo, al 2-1 al Valdagno e dal pareggio 2-2 è successo ai tiri diretti con il Breganze. Il semifinale 5-4 a Roller-Barsane, in finale il 2-1 al Breganze per il terzo posto Breganze-Pollonica 6-4. Quindi è una manifestazione che si è rivelata molto interessante e importante per i colori versiliesi che sono riusciti ancora una volta a mettere in mostra i propri gioiellini anche in virtù delle prime squadre. Bisogna puntare sui giovani e questo è lo slogan che viene dettato dai dirigenti delle squadre via Regine e versiliesi e vedremo se verrà concretizzato nel futuro. Fatto sta che il vivaio ancora una volta di questi club ha dimostrato proprio a Follonica in Coppa Italia nelle finali del campionato italiano di essere all'avanguardia. Quindi in bocca al lupo e buon lavoro per il futuro oltre ovviamente ai complimenti meritati. Veniamo al beach volley adesso. 100 atleti provenienti da Lazio e Lombardia si sono sfidati sulla spiaggia del bagno Andrea Doria a Torre del Lago per il master finale di Winter Challenge Opus che ha assegnato il titolo di campione italiano di specialità. Nel fine settimana appena chiuso un grande spettacolo sulla Marina Torre Laghese per l'evento che ha inaugurato ufficialmente la stagione estiva dello sport su sabbia, griffata Bad Players. Abbiamo ricevuto un ottimo supporto tecnico e logistico, ha sottolineato Davide Simbolotti, responsabile nazionale del settore beach volley di Opus Italia. La nostra intenzione è sicuramente quella di tornare nel 2019, ha dichiarato. Prossimo appuntamento sulla sabbia, ritorno del lago, il 7-8 luglio con il mix Giurlani, torneo misto di beach volley che torna all'Andrea Doria dopo la tappa sold out del 2017 quando accolse quasi 100 squadre da tutta Italia. Chiudiamo con il calcio, ma guardiamo ai mondiali di calcio in Russia. Come sapete non è presente la nazionale italiana azzurra, ma ci saranno due viaregini coinvolti. Il dottor Angelo Pizzi, che è stato fino a pochi mesi fa responsabile della medicina dello sport dell'ASL Versilia ed ora uno dei componenti, il nuovo centro medico inaugurato in via Garibaldi, farà parte dello staff sanitario del mondiale. Con lui anche Cristiano Cerdelli, ex allenatore di calcio che ha già lavorato con l'UEFA su incarico del responsabile Pierluigi Collina, relazionerà gli arbitri sulle squadre di calcio che dovranno dirigere, come è già avvenuto in occasione di altri eventi internazionali. Con questa notizia di calcio noi ci salutiamo, tra poco di nuovo insieme alla terza parte del nostro telegiornale. Ben ritrovati, terza parte del nostro Tg, non ci sono aggiornamenti di cronaca. Vi ricordo questa sera l'appuntamento con i video d'autore di Paolo Barberi alle 22, puntata dedicata al verde, al gaff, giardini, arte, fiori, forte, remarmi, andato in scena al Forte in questo fine settimana. Vivaisti, espositori provenienti da tutta Europa, dalla Francia, dalla Germania, espositori con un'ottima partecipazione di pubblico in onda, i video d'autore di Paolo Barberi alle 22 del lunedì, e poi mercoledì alle 21.30, venerdì alle 21, sabato alle 21.30, domenica alle 19.00. E poi vi ricordo, come detto, il confronto elettorale in diretta a Pietrasanta, domani sera, martedì, a partire dalle 21.00. È tutto davvero per questa edizione, grazie dell'attenzione e buona serata a tutti voi.